La Giulia è divertente, è gentile, ti presta più le cose. Tu Giulia Bruscole vuoi sposare Nora Blummaier e Antonella Casprini? Sì. Allora vi dichiaro moglie, moglie, moglie! Sono gli ultimi giorni di scuola di una quinta elementare. Giulia! Ho detto che ora dovete fare un gesto all'altro. La separazione si avvicina. Giulia, cosa volevi dire? Mamma, non era una cosa sola, era un'osservazione. Sì, l'osservazione ti piace. È come le tabelline. In che senso? È una specie però con tutti i modi. Aiuto! Aiuto! Dove l'avete vista l'ultima volta? L'avete trovata? No! 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 La storia di un momento unico. L'emozione di crescere. Io non voglio andare nel futuro. Educazione affettiva. Da febbraio al cinema.